Piego l'ultima volta, Silvietta, nostra follower, ha preso la manetta FUSCIA FUSCIA Che basta Che toglie a vedere, non ti tocca qualcosa, troppo che si è pissadosso e mi baglia a partire Sono fuori Sono venuto fuori E' in inglese? I comprendo i vostri linguaggi, ma non mi interessa Mi è chiesto, praticamente, se voglio comprare delle visualizzazioni, quello che non ha dei follower in più E così vediamo Abbiamo anche la maglietta FUSCIA Bastano i due stream e poi le due regia Va bene, sentatela E sentatela che tanto lui qua a presenza non la fa Se sentate si indi magari Assolutamente 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 Questa è la converte Su Islam Qualcità